Gli abitanti di Empoli sono turisti in casa propria. Oggi riscoprono perle d'arte nascoste lungo le vie del proprio quartiere. Insieme a loro conosciamo la frazione di Santa Maria, zona chiamata anche Empoli Vecchio perché da questo gruppo di case, con il tempo, è nata la città attuale. La passeggiata nella storia parte dal cuore della frazione, la chiesa di Santa Maria Arriba. Che è una chiesa francescana che risale al 1485. Fu la prima chiesa affidata all'ordine francescano con attualmente la regolare parrocchia al mondo. Una trentina di persone partecipa con interesse a questa passeggiata nella storia, nata dalla collaborazione tra la sezione SociCop di Empoli e il Comitato di Santa Maria, che unisce Casa del Popolo e parrocchia per il restauro di uno dei simboli della zona, la Colonna Leopoldina. A questa bella passeggiata dove scopriremo i luoghi storici di Santa Maria, con gli abitanti stessi che li vedono tutti i giorni ma non li conoscono approfonditamente, seguirà a breve una scena proprio a sostegno del restauro di questa colonna. La Coppe, come sempre, la sezione SociCop soprattutto, vuole essere vicina alle iniziative territoriali e quindi ci è sembrato naturale partecipare. Per restaurare la colonna servono 18.000 euro e la cena di finanziamento si svolgerà il 17 giugno. Si tratta di un monumento del 1800 ma che aveva una funzione pratica. Oggi potremmo considerare le 18 colonne leopoldine presenti in Toscana come l'antenato del moderno navigatore. Queste colonne furono progettate per volontà del Granducato Leopoldo II nel 1840 e commissionate dal regio architetto Antonio Manetti e erano un po' come i vecchi scippi miliari, nel senso che marcavano l'inizio delle strade regio. Le strade regio sarebbero le nostre vie di grande comunicazione proprio perché qui a Santa Maria iniziava, come tuttora, un'importante viabilità primaria del Granducato Toscano biforcandosi la via che va a Livorno, appunto tuttora via Livornese e sull'altro lato la via che invece va a Lucca, la via Lucchese. Il tour lungo la storia di Santa Maria tocca anche la cappella oratorio di San Mamante, antica chiesa che risala al 1100. La passeggiata serve anche a questo, a riscoprire le radici di una comunità. Questo, prima si chiamava Frazione, ora di fatto è un quartiere, ha mantenuto la sua realtà storica, quindi c'è un attaccamento particolare, c'è una comunità attenta che cerca sempre di migliorare il luogo e quindi è un pezzo importante della città di Empoli, molto importante. Santa Maria è qualcosa di diverso rispetto a tante altre zone. Grazie per la visione!